ciao a tutti e benvenuti ad un altro video qui su credi nella tua storia oggi voglio parlarvi di un concetto che mi sta particolarmente a cuore quello dell'autore imprenditore o come direbbero in anglosassolandia e nella presentazione che seguirà vi spiegherò un pochino in che cosa consiste questo termine per quale motivo è importante per un autore indipendente che vuole essere serio sul suo business e quali sono alcune qualità alcuni skill set che è importante che voi sappiate e che possediate vi ricordo come sempre che se siete o sarete interessati a video come questi potete iscrivervi sul mio canale youtube e per farmi sapere che gradite più materiali di questo genere mando alle ciance iniziamo con questa presentazione attenzione eccoci qui siamo alla presentazione autore imprenditore quando il tuo libro diventa il tuo business presentato dal yours truly michela mitrani chi sono per chi non mi conoscesse alcune presentazioni sono un obbligo sono un autore imprenditore ovvero quello che in anglosassolandia viene chiamato autopreneur e sono anche un podcaster ho pubblicato da solo indipendentemente libri sia in italiano che in inglese per ormai quasi un dicegno sia in anglosassolandia che in italia se volete insomma sapere un pochino più di me sul lato autore potete visitare il sito michela mitrani.com sono anche il fondatore di un altro sito chiamato credi nella tua storia.com che praticamente è un angolo del web dove mi concentro esclusivamente su argomenti come self publishing book marketing ma anche platform building oggi spiegheremo un pochino meglio queste tre componenti e un'altra cosa che faccio sono con la mia collega crystal hunt il co-host dello strategic entrepreneur podcast che sarebbe uno show canadese che si occupa specificatamente di self publishing book marketing e platform building ancora una volta se siete interessati di più a sapere che cosa faccio in quell'altro angolo del mondo potete visitare il nostro sito strategic entrepreneur punto com e tu chi sei stai pensando di pubblicare un libro indipendentemente oppure lo hai già pubblicato con diversi con diverso successo ma vuoi sapere un pochino di più su questo mestiere a quello dell'autoditore magari sul lato business spero davvero che questa presentazione possa aiutare te aiutare tutte le persone che stanno guardando queste slide a capire un po' meglio i meccanismi che funzionano dietro lo scenario del self publishing una delle cose più importanti dalle quali iniziare secondo me definire questo concetto ovviamente tutto quello che seguirà sono considerazioni mie private non c'è un corso universitario mondiale sul self publishing ma queste sono delle cose che ho imparato in quel famoso decennio in cui ho studiato questa materia secondo me quindi un autore imprenditore un entrepreneur è uno scrittore che produce pubblica e promuove i suoi libri come CEO della sua propria compagnia come vedete ci sono delle componenti quella dello scrittore dell'editore dell'imprenditore fuse dentro il concetto dell'autore imprenditore e lo scrittore ovviamente è chi scrive può essere libri di fiction o di no fiction quindi saggistica o narrativa e scrive ovviamente utilizzando una routine di scrittura consolidata quindi lo fa proprio come mestiere la componente editore invece è quella di pubblicare strategicamente lavori professionali con l'obiettivo specifico di generare un profitto ultima componente che è quella sulla quale ci concentreremo maggiormente noi oggi è quella dell'imprenditore ovvero la persona che ha un proprio brand o una propria brand in italia si usa il maschile non so esattamente perché e crea una piattaforma dove interagisce con i suoi lettori per piattaforma intendo piattaforma online andiamo a esaminare nel dettaglio che cosa le cose di cui sto parlando queste tre componenti cardini della figura dell'autore imprenditore la prima ovviamente è quella dello scrittore e praticamente si riferisce alla persona che sa scrivere una storia o scrivere un libro di non fiction che tratto un certo argomento io mi riferisco la prima componente a quella del craft praticamente il saper costruire una trama dei personaggi a fare in modo che questo libro sia interessante insomma da leggere legare il tutto con un giusto pacing quindi il ritmo della narrazione incalzante calzante o interessante tutte queste cose qui insomma vengono incluse nel concetto di craft ovviamente uno scrittore si trova anche a decidere dove dover decidere se pubblicare libri di fiction o non fiction quindi di narrativo di saggistica può ovviamente pubblicare entrambi i generi io pubblico sia libri di fiction che non fiction però è una scelta ovviamente che deve fare ogni scrittore la terza scelta e componente che definisce il concetto di scrittura è quella del genere ovviamente dovrete decidere che tipo di genere scrivere sci-fi thriller romance se siete degli scrittori di narrativa di saggistica magari come imparare a sollevare pesi o come imparare a costruire una piattaforma online come creare un podcast sono insomma argomenti e o generi diversi un'altra componente è quella della lunghezza dovrete decidere come scrittori che tipo di libri volete pubblicare delle novelle a novellette storie breve libri veri e propri magari epic fantasy alla Brandon Sanderson di mezzo milione di parole o di più questa è un'altra componente che va ad essere ricercato ovviamente in questa categoria dello scrivere e poi infine ritengo importante ricordare anche il fatto che potete decidere se scrivere in serie una serie di libri oppure se scrivere un libro autonomo componente dell'editore praticamente qui si tratta di mettere la vostra giacca e la cravatta e imparare a collaborare con altre persone perché uno scrittore anche se self publisher da solo non va da nessuna parte ha bisogno di collaboratori che possono essere nella veste di correttori di bozze designer tutte le persone che possono aiutare a creare o veicolare o pubblicare un prodotto che non ha niente da invidiare a prodotti della editoria tradizionale professionale ovviamente front and back matter a queste cose qui mi riferisco come l'inizio e la fine del libro quale call to action avete all'inizio della vostra storia alla fine non starò a spendere troppo tempo su ognuna di queste categorie o sotto categorie però sappiate che è importante come editore che facciate questa scelta metadate e categorie sono praticamente che tipo di informazioni da rete del libro titolo sottotitolo prezzo categoria in quale categoria su amazon o su covo su altri venditori deciderete perché siete voi a decidere come editore in quale categoria mettere il vostro libro l'isbn è importante anche perché fa in modo che il sistema editoriale quindi tutti questi ben negozi google play amazon apple books riconoscano il vostro libro e ci tengo a specificare che l'isbn non è strettamente necessario ma io in alcune piattaforme lo è però io sottolineo sempre l'importanza di averlo il prezzo del libro è un'altra cosa caricata nelle scelte dell'editore quindi che dovrete fare se volete imbarcarvi in questo viaggio dell'autore imprenditore il prezzo del libro quindi è importante per ogni formato diverso quindi paperback audio book ebook ed è una scelta che voi dovrete fare basandovi su ovviamente le vostre esigenze private non c'è un prezzo giusto un prezzo sbagliato dovrete dovrete anche decidere dove distribuire i vostri libri quindi in quale negozio andrete esclusivi con chdp select o sarete wide quindi tutti gli store del mondo altra considerazione importante come distribuire i vostri libri lo farete dalla dashboard diretta di amazon kindle direct publishing o cobo writing life su cobo oppure utilizzerete qualcosa come smash for smash word publish drive draft digital e vi risparmiate un bel poli tempo e pubblicherete tutti i vostri lavori da una sola location ovviamente però se fate questa scelta dovrete rinunciare alcuni diciamo così piccole perks qualche diritti ovviamente dovrete pagare una percentuale sulle vendite dei vostri libri a questo distributor quale formato sceglierete per pubblicare i vostri libri book audiobook copertina flessibile copertina rigida ancora una volta questa è una scelta caricata sulle vostre spalle come autore imprenditore e infine un'altra delle cose ma ce ne sarebbero molte altre da aggiungere quella delle recensioni siete voi che dovete in qualche modo ricercare visibilità e l'attenzione di altre persone su vostri libri e fare in modo in modo legittimo di generale interesse intorno alle vostre storie e ottenere in maniera legittima queste maledette recensioni parliamo dell'imprenditore l'imprenditore quando io mi riferisco all'autore imprenditore questa componente importante che rende il concetto stesso di questa presentazione così fondamentale è composta secondo me da quattro componenti fondamentali quella del branding o della branding quella della piattaforma quella della promozione quindi content marketing advertisement e quella della newsletter mailing list andremo a esplorare in dettaglio ognuna di queste sottosezioni ma sappiate soltanto che queste secondo me sono le quattro componenti più importanti per capire l'importanza di veicolare un concetto come quello di autore imprenditore molte persone non sanno esattamente che cosa si intende con brand specialmente se riferita per i libri insomma per un prodotto come i libri brand vuol dire molte cose e nessuna cosa secondo me questa è la mia definizione il o la brand sono le componenti che distinguono i tuoi libri da tutti gli altri vi faccio un esempio solitamente i miei libri fantasy ma anche di fantascienza non sono dei spara spara c'è sempre una componente di riflessione interna dei personaggi solitamente mi piace molto stupire il mio pubblico fare in modo che i personaggi per quanto possibile siano tutto tondo quindi sono tutte queste componenti che fanno in modo che quando una persona vede michela mitrani sulla copertina di un libro pensi a queste cose qui questa è la mia brand questo è la sensazione che voglio dare ai lettori quando vanno a fare browsing su amazon e vedono le mie copertine vedono vedono i miei libri qual è la tua brand quali sono le caratteristiche fondamentali dei tuoi libri quali emozioni suscitano suscita il nome del tuo del tuo il tuo nome di autore ai lettori che lo vedono sugli store online la seconda componente è quella della platform e qui voglio fare una piccolissima definizione mia che ho ripreso da un esponente del marketing statunitense michael che definisce la piattaforma platform piattaforma online come lo spazio del web che gestisci e controlli quindi io come piattaforma definisco il mio sito internet magari il mio podcast cose che controllo non social media quella è un'ambasciata della mia piattaforma come ho detto all'inizio queste sono le mie specifiche definizioni dei termini non sono definizioni che utilizzano altri autori però per farvi capire insomma per mettere i puntini sulle che cos'è questa dannata piattaforma la piattaforma di un autore come ci dice david gogran è la sua presenza su internet le piattaforme degli autori hanno due ruoli quello di attirare nuovi lettori e coinvolgere lettori preesistenti questo è molto chiaro e david che è un collega indipendente irlandese che vive adesso in penso in portogallo ha reso molto chiaro questo è quello che io anche intendo per piattaforma di un autore e la sua validità la terza componente è quella che fa mettere di più le mani nei capelli agli scrittori perché è quella di promuovere i propri libri che è una cosa assolutamente difficile da fare specialmente per persone che solitamente sono molto introverse e non sanno esattamente come si fa quali sono le armi a loro disposizione per quanto quando si tratta di promuovere i loro libri e promuovere non è spammare spammare molto facile però non richiede l'acquisizione di nessuna skill o skill set particolare promuovere efficacemente i propri libri invece richiede anni di esperienza io ho citato due cose qui nella voce promozione come content marketing ads non avrò tempo di esplorare questi concetti a fondo anche ci sarebbero da fare una serie di slide proprio su questi concetti se siete interessati ovviamente potete farmelo sapere poi alla fine di questa questo webinar di questa presentazione c'è una cosa che ha detto nicolas eric un'altra persona che segue che è molto molto brava per quanto riguarda book marketing e self publishing nicolas ha detto che marketing è un insieme di molte sub skills e questa è una maratona quindi parliamo di 5 10 20 anni per questo motivo è importante pianificare di conseguenza non state pubblicando un libro se siete seri state pensando di pubblicare svariate dozzine di libri nell'arco della vostra vita le storie che sentite di persone che ce la fanno dopo aver pubblicato uno due magari tre libri sono delle eccezioni e la maggior parte delle volte non vi stanno dicendo tutta la storia perché magari quel successo improvviso ha cercato di diventare un successo per 8 10 15 anni ma ovviamente una notizia di questo genere non sarebbe sexy quindi voi non sapete tutto lo backstory che c'è prima di quel successo improvviso state molto attenti quindi a questa componente del tempo è molto ma molto importante quando si tratta di fare marketing per i vostri libri ultimo lato dell'imprenditore quello della newsletter o mailing list che è se possibile di pari passo forse a volte per alcuni autori in questo concetto anche più difficile di comprendere di quello della promozione sicuramente lo era per me fino a qualche anno anno fa che cosa intendo quando parlo di newsletter o di mailing list per autori ancora una volta prendo in prestito le parole che ho tradotto ovviamente spero non troppo ma che eronicamente di nicolas eric che ci dice la tua email la tua mail list o mailing list è una linea diretta di comunicazione con i tuoi fan più sfegatati è la pietra angolare della tua piattaforma e il tuo secondo business asset più importante vi chiederete qual è il primo spoiler alert scrivere un libro che le persone vogliono leggere però ne nicolas eric ha ragione quando dice e definisce le mail list come la pietra angolare della vostra piattaforma e uno degli asset più importanti nella pisaccia dell'autore indipendente dopo aver detto tutto questo aver definito e messo i puntini su lì sul concetto di autore imprenditore le componenti che lo caratterizzano quando una persona vuole vendere un libro quindi vuole essere un autore imprenditore e non c'è niente di male se voi volete semplicemente pubblicare un libro e fare in modo che i vostri familiari lo leggano sappiate soltanto che non siete un autore imprenditore perché è proprio questo il l'interesse il punto importante generare un profitto altrimenti non siete un imprenditore il libro ideale e questa è una cosa che io ho imparato nel tempo in realtà non esiste quindi questa è una cosa interessante da notare però ci sono delle cose che si ripetono nei libri che solitamente hanno successo sono definiti di successo poi parleremo di questa parola parolaccia quella del successo un pochino dopo però per questo momento cercate di seguirmi per libro ideale io intendo in generale un libro che le persone trovano e come si fa a trovare vostro libro se voi pensate specialmente oggi di pubblicare un libro che in qualche modo venga scoperto pensate nuovamente perché non esiste una cosa del genere a meno che non abbiate già una piattaforma online magari siete uno youtuber che ha cento mila subscriber quindi avete già un palco e avete delle persone che sono interessate a sentire quello che volete dire o che volete scrivere nessuno comprerà il vostro libro se non i vostri familiari e amici se non avete un record comprovato di che interessi ai lettori quindi come fate in modo di generare traffico alle pagine la pagina web dove il vostro libro viene venduto su amazon su covo su tutti gli altri rivenditori con ads social media content marketing ancora una volta non posso parlarvi nello specifico di queste componenti ma sappiate che dovete essere voi come autori imprenditori a generare questo traffico a fare in modo di indirizzare le persone giuste sul vostro prodotto la seconda cosa importante da ricordare che non basta che voi indirizzate le persone sulla pagina del vostro prodotto le persone devono vorrei leggere questo prodotto quindi se voi indirizzate le persone sulla vostra pagina ma la copertina del vostro libro o fa schifo oppure una copertina di un thriller che sembra un romance le persone non lo leggono perché non si aspettano quella copertina magari non gli dà l'esperienza che vuoi fare un click è molto semplice e cliccare indietro andare alla pagina precedente è ancora più semplice quindi voi avete pagato per quel click ma non avevate mai avuto la possibilità never ever ever di chiudere la vendita descrizione un'altra cosa importante se la vostra descrizione non rafforza quello che la copertina sta dicendo al vostro pubblico potenziale le persone non cliccheranno il pulsante compra recensioni prezzo e l'anteprima sono altre componenti importanti da considerare e cose che si imparano a raffinare con il tempo una volta che le persone vogliono leggere il vostro libro questo non vuol dire che lo leggeranno fino alla fine e voi volete che leggano il vostro libro fino alla fine perché se avete una cover spettacolare avete magari assunto qualcuno per fare una descrizione coi controfiocchi le persone comprano questo libro però poi si accorgono che i personaggi sono piatti come questo tavolo che non c'è nessuna trama e le cose non si fanno interessanti le persone non finiscono di leggere il vostro libro e questo significa che voi non risentirete queste persone o non avrete la possibilità di vendere secondo terzo dodicesimo libro della vostra serie e come fare a fare in modo che le persone vogliano leggere il vostro libro è molto difficile e si tratta secondo me di aumentare quella skill sub skill del craft quindi essere bravi a creare personaggi a tutto tondo un pacing o ritmo della narrazione che è tipo un thriller che vuoi volete fare in modo che i lettori vadano l'ultima pagina del capitolo e non fer non si fermino non vadano a dormire tutte queste cose non possono essere spiegate in questa presentazione vi basti sapere che dovete scrivere molte cose che fanno schifo prima di generare quel tipo di interesse da lettori perché avrete capito alcuni meccanismi della narrazione siete arrivati nel diciamo così sacro graal del libro ideale l'ultimo livello di questo gioco se volete il boss finale le persone finiscono di leggere il vostro libro e gli piace davvero tantissimo questo vuol dire che avete generato un fan una persona davvero interessata alla vostra storia vostri personaggi e queste persone vorranno condividere questo libro quando tutte le componenti lavorano in tandem e voi generate un fan avete creato quello che è l'effetto più potente che un autore imprenditore può chiedere per i suoi libri che è quello del word of mouth cioè il passaparola il passaparola non può essere comprato queste sono alcune delle cose che io ho visto funzionare in questo decennio di self publishing e intervistando anche alcuni degli autori imprenditori italiani più famosi ma anche alcuni degli autori internazionali più affermati scrivete libri sempre migliori imparate a scrivere libri che le persone vogliono davvero leggere scrivete finite di scrivere il libro pubblicatelo al meglio delle vostre risorse o conoscenze e poi iniziate a scrivere un nuovo libro nel 2020 ho fatto una challenge quella di scrivere una storia ogni mese che ho chiamato la 12 by 20 challenge e questo è stato forse una delle decisioni migliori nella mia carriera di autore imprenditore perché mi ha fatto capire qual è il processo di scrivere qualcosa che non ti piace finirla e doverla forzatamente pubblicare sentire di feedback e che cosa ho scoperto che le mie storie non erano poi così povere di contenuto anzi alcune interessavano anche delle persone a leggere alcune persone addirittura mi scrivevano quando arriva la prossima quindi cercate di coltivare questo importante esercizio dell'iniziare qualcosa completarla finirla passare alla cosa successiva la terza componente che vedo continuamente anche sulla mia pelle imparate come promuovere i vostri libri un giorno alla volta imparate per esempio come funzionano gli ads quella degli ads è una delle componenti forse più importanti per fare in modo di generare quel famoso traffico alla vostra pagina e non si impara in un giorno io ho iniziato questa strada ormai un annetto mezzo due anni fa continuo a imparare c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare prendete questa cosa come una sfida personale che non deve essere vinta un giorno soltanto ma che è ancora una volta una maratona invece che uno sprint un'altra cosa che ho visto funzionare sono le serie funzionano meglio piuttosto che un libro uno stand alone o una collection di storie e questo perché le persone si affezionano a un certo tipo di personaggio magari una trama vogliono vedere come va a finire nel momento in cui vi sto parlando una dei miei prodotti che vendono di più è quella di una serie di fantascienza una quadrilogia c'è poco da fare è molto più difficile rispetto a scrivere un libro già scrivere un libro è difficile però scrivere una serie dovrebbe essere il prossimo livello nella vostra carriera di autore imprenditore se ancora non l'avete scritta non è fondamentale attenzione ma è consigliata se volete un pochino accelerare le cose questa serie ovviamente deve essere scritta bene non deve fare o inorridire i lettori e una forse delle cose più importanti di quello che ho detto in questa presentazione è che non aspettatevi un successo improvviso quello che ho visto maggiormente parlando con colleghi indie su entrambi le sponde dell'Atlantico è che c'è sempre la maggior parte delle volte una lenta crescita graduale una lenta crescita graduale e anche quando sembra che un autore imprenditore è sfucato da nulla in realtà se andate a vedere quella storia troverete 10 15 anni di libri che sono stati scritti e che nessuno davvero di cui nessuno davvero ha parlato quindi state molto attenti a questa storia dei successi improvvisi perché potrebbe essere una una storia fandonia questa è la domanda da un miliardo di dollari e io ho deciso di rispondere nel mio modo caratteristico spero con un pizzico di ironia utilizzando Stephen King che disse se hai scritto qualcosa per cui qualcuno ti ha inviato un assegno, si è incassato l'assegno e non è rimbalzato e se poi hai pagato la bolletta con i soldi di quell'assegno ti considero una persona di talento questa è la mia traduzione di una frase che disse Stephen King può essere, questa è la vostra idea di successo, quella di generare abbastanza profitto da pagare le bollette della luce sicuramente è parte della mia definizione ricordatevi sempre, state parlando di una componente, quella di autore, imprenditore che non è soltanto uno scrittore, non siete più solo un artista il cuore del vostro business rimanete voi, rimane il lato creativo ma dovete sapere agganciare tutte queste altre cose di cui ho parlato se volete davvero fare in modo di pagare un caffè o la spesa o un nuovo vestito a vostra moglie questi sono alcuni dei libri che consiglio la maggior parte, in realtà, volevo consigliarvene 25.000 purtroppo avevo il tempo e lo spazio soltanto per 5 in realtà è una bugia, sono 5 più 2 questi però sono i 5 che vi raccomando di più l'unico italiano è Self Publishing Lab il mestiere dell'autoeditore della mia collega Rita Carla Francesca Monticelli gli altri sono di David Gogran, sono scritti in inglese ma è un inglese molto facile quindi vi consiglio di andare a controllarli se siete interessati ad esplorare meglio i concetti di cui ho parlato oggi e poi spudoratamente, però mi faccio un pochino di pubblicità io ho anche scritto una mini guida chiamata autoeditoria digitale che è disponibile gratuitamente se vi scrivete la mia newsletter io ho scritto anche Destinazione Self Publishing che è un libro in cui vi racconto come sono diventato un autore indipendente e quali pazzie ho escogitato per creare le basi del mio business online se siete interessati a controllarli potete anche farlo vi lascio con alcune conclusioni non fate tutto da soli siete un self publisher, siete un autore imprenditore ma la cosa più importante da considerare di questo concetto è che è un autore imprenditore o un professionista e un professionista sa quando ha bisogno di altri professionisti che lo aiutino cover designer, se avete bisogno di compilare le tasse se avete bisogno di, e avrete bisogno di qualcuno che vi corregga il maloscritto non potete fare tutto da soli a rischio di rendermi odioso né a ripetere questa cosa a svariate volte investitevi in un sito internet in una main list perché sono i vostri asset più importanti dopo ovviamente aver scritto un libro con la L maiuscola e che le persone vogliono leggere se non avete proprio nient'altro da fare con il vostro tempo vi consiglio di venirmi a trovare nel mio sito www.crenilatostoria.com vi vedrete anche quel libro di cui vi ho parlato prima autoeditoria digitale e se avete domande o dubbi la mia email è hello at michelamitrani.com ora ve la dico in italiano hello chiocciola michelamitrani.com e quindi se avete domande o quesiti su questa presentazione ma anche su altre cose relative a self-publishing vi ricordo anche che se volete che pubblichi più di queste presentazioni slash slide sul self-publishing, bookmarketing e platform building potete farmelo sapere nei commenti ma ancora più importante se vi iscrivete al mio canale youtube di Credi nella tua storia quello è un indicatore assolutamente essenziale per farmi capire se video come questi hanno suscitato il vostro interesse io vi do un saluto grandissimo e ci vediamo alla prossima ciao a tutti